Ciao a tutti, il libro è arrivato, anzi ne sono arrivate diverse copie perché le ho ordinate per alcuni amici che mi avevano chiesto, ma ordinamelo tu che io non so come fare su Amazon, e devo dire che il servizio è stato più che eccellente, è arrivato in pochissimi giorni. Se qualcuno di voi lo volesse ordinare, tenete conto che il cartaceo al massimo di una settimana vi arriva, basta andare su Amazon, cliccare sulla finestrella dove far uscire i libri, scrivete negozio, prontuario, Giorgio Rocca o manuale, vedrete che è nei primi dell'elenco, dopodiché fate l'ordine e nel giro di una settimana vi arriva. Diversamente potete ordinarlo in formato digitale, che potete vederlo sia sul Kindle, ma vi ricordo a tutti che è fattibile vederlo anche sui tablet, sugli iPad e addirittura sugli smartphone, quindi non ci sono problemi. Ho preferito dirvi queste cose perché alcuni, quelli che mi chiedono di ordinarlo direttamente, quelli che non sanno come si fa, direi che è abbastanza semplice. Sito di Amazon, nella prima videata vi esce fuori l'elenco dei vari dipartimenti, scegliete o libri o Kindle Store, da lì vi propone un'altra finestrella, scrivete negozio, prontuario, manuale, Giorgio Rocca e vedrete che non ci sono problemi. Grazie, ciao, arrivederci.